Sono qui a JBR con Fabio Fedele, che è un grande artista italiano, che è venuto qua a fare una sua opera. Mi descrivi l'opera? Sto rappresentando una città in stampo medievale, un po' inventata, in formato molto piccolo, in maniera che il pubblico che possa farsi la foto si senta come Gulliver nel paese. Allora il pubblico saranno giganti dentro la presa. Esatto, sì. Grandi giganti. Ci saranno dei personcini che lo attaccano? No, farò dei piccoli personaggi, un po' che lavorano e un po' che sono spaventati. Va bene, è una bella idea. Essendo qua, qua abbiamo una scena europea intanto, ma noi siamo qua a JBR, a Dubai. Cosa sono le tue impressioni dell'ambiente qua? Trovo che l'ambiente è molto bello, la gente è molto interessata, il clima, devo dire che io partecipo molti festival. A volte capita che ci sia troppo caldo, troppo vento. E qua, anche se c'è un clima tropicale, devo dire che non ho problemi climatici. Il sole non è forte. È un po' meglio che non la Mantova? Ah, sicuramente, sì. In Italia, che c'è un clima, diciamo, quasi nordico, c'è molto più caldo, devo dire. È una cosa che mi ha sorpreso molto. E diresti che per un italiano venire qua per fare la vacanza non sarebbe male? No, forse è meglio che vengano qua che non in Italia, per certi versi. Per il clima, devo dire, mi ha sorpreso come sia più salutare forse che in altre zone più temperate. Bene, allora ti ringrazio. Grazie. 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 Grazie.